Succhioni e polloni. Scopriamo che cosa farne subito dopo la sigla. Benvenuti sul canale Paoletti Sfa. Qui vedete dei polloni e dei succhioni. Ma qual è la differenza tra il pollone e il succhione? Il pollone è quello che parte dalla radice, quelli che vediamo in basso, mentre il succhione sono quei rami che vanno verso l'alto che succhiano la linfa dell'albero. Mi trovo nell'uliveto che abbiamo portato quest'anno a vaso policonico. Abbiamo fatto la riforma. Quindi molti alberi hanno tirato fuori molti succhioni. Di conseguenza oggi andremo a vedere come togliere polloni e succhioni. Ci troviamo a luglio. Solitamente questa fase si fa verso fine agosto. Siccome abbiamo tanti polloni e tanti succhioni, andremo a togliere solo i polloni e qualche succhione un po' più grosso per aiutare la pianta ad avere una postura migliore per l'anno prossimo, per la produzione dell'anno prossimo. Prima però vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube. Mi raccomando, una cosa molto importante, iscrivetevi e attivate la campanellina. Tutti voi che state guardando questo filmato. Adesso andiamo. Bene, iniziamo da qui. Vediamo questi polloni e andiamo con l'aiuto di questo nostro attrezzo indispensabile andiamo a vedere che cosa ha a tagliare. Ecco, ci avviciniamo e iniziamo a tagliare tutte queste parti. Guardate quante ce ne sono. Iniziamo a tagliare. Vi faccio solo una zona così iniziamo a vedere come cambia già l'aspetto dell'albero. Vedete già quanti ne ho tolti? E sembra che ancora non cambia nulla. Adesso vi porto proprio dentro. Così vi faccio vedere ogni fase. È un po' difficile fare questa cosa col telefono in mano ma cercheremo di farlo alla meno peggio. Cerchiamo di dare i tagli più vicini possibili all'albero ovviamente sempre rispettando la corona. Magari possiamo fare anche al momento quelli più piccoli li possiamo lasciare e andiamo a togliere solamente quelli più grandi. Ma siccome avete visto praticamente è una foresta vedete come già sta cambiando? Questi sono alcuni dei polloni che abbiamo già tolto e queste si iniziano a vedere le radici dell'albero che inizia a essere più pulito. Continuiamo il nostro lavoro. Ovviamente come dicevo cerchiamo di fare questo lavoro sempre tagliando il più vicino all'albero e sempre rispettando la corona. Pensate questo lavoro va fatto per tutti gli alberi. Sono circa 200 quindi vi lascio immaginare. E allora facciamo un po' il punto della situazione sui polloni vediamo qui che l'albero finalmente è pulito questi sono tutti i polloni che abbiamo tagliato finalmente l'albero respira e adesso andiamo a vedere i succhioni che sono questi rami che vanno più verso l'alto vediamo quali iniziare a togliere per sistemare e mettere un po' a posto l'albero. Vi faccio vedere da quella parte come si inizia a pulire l'albero ovviamente noi stiamo togliendo solo quelli più grossi e quelli che vanno all'interno perché è importante lasciare qualche succhione magari quelli più piccoli quelli più deboli perché così aiutano l'albero a non devitalizzarsi. Noi siamo abituati a togliere sempre tutti i succhioni perché pensiamo che tiri troppa linfa agli alberi e invece no un modo di ragionare è sbagliato perché questi piccoli succhioni guardate questi piccoli questi morbidi aiutano la pianta a non morire e quindi non si devitalizza spesso noi vediamo la carie una parte del tronco che è morta e questo è dovuto al fatto che abbiamo sempre tolto siamo stati abituati a togliere i succhioni invece bisogna fare semplicemente una pulizia togliere solo quelli più grandi e lasciare quelli più piccoli così da non far morire la pianta anzi devitalizzare la pianta e lasciarlo sempre in attività direi che come pulizia al momento è più che sufficiente poi magari ad agosto se c'è altro facciamo anche la parte più alta ci avviciniamo e facciamo quest'altra pianta possiamo già vedere le foglie come si vede che questa è la parte selvatica si vedono le foglie che sono molto più piccole dell'albero in sé per sé quindi questo ci fa capire che c'è una buona probabilità che questa è la parte selvatica quindi procediamo a togliere tutto già iniziamo a evidenziare qualche succhione che dobbiamo togliere ma adesso ci concentriamo nella parte bassa nella parte bassa in realtà siccome noi quest'anno abbiamo avuto tutti questi polloni e succhioni perché abbiamo fatto una potatura di riforma quindi fa parte della natura della pianta avere questa reazione gli anni successivi siccome i polloni saranno più controllati non saranno così tanti li potremo lasciare anche perché potranno aiutare l'albero a non far salire lo zio rinco che sarebbe questa questo vatta che abbiamo messo sarebbe una trappola anzi è una trappola per non far salire lo zio rinco che va a mangiare le foglie più giovani mentre se noi lasciassimo questi rametti sotto lo zio rinco si sazierebbe con questi rametti qui sotto adesso andiamo a vedere un po' la parte diciamo non alta ma un po' più alta dei polloni andiamo a togliere qualche ramo un po' più duro tipo questo 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 anche se è un succhione potrebbe diventare una secondaria quindi potremmo lasciarlo qui così quindi al momento non toccherei più nulla lasciamo così poi magari ad agosto facciamo la seconda fase vediamo più del taglio come fare una sorta di pulizia e poi dopo la raccolta faremo la potatura siamo su un altro albero vediamo questa parte qui alta dei succhioni è molto carica quindi andremo a lavorare molto anche su questa parte mentre qui vediamo oltre a una vite vediamo che polloni non ce ne sono tantissimi quindi togliamo qualcosa allora qui bisogna iniziare a fare un ragionamento per la pulizia e vediamo qui c'è un groviglio di rami però possiamo utilizzare qualche ramo magari per fare qualche ramo importante allora iniziamo a togliere tutti questi che sono che vanno verso l'alto e non ci servono iniziamo a fare un po' di pulizie qui dovevo iniziare a selezionare quale vogliamo vedete qui che groviglio c'è iniziamo a togliere qualcosa ok questo potrebbe andare anche se non sono convinto molto su questo però al momento lasciamolo così spero che il video vi sia piaciuto abbiamo lavorato nel dettaglio vi ho spiegato un po' tutte le fasi per tenere la pianta per non far spiegare energie inutili alla pianta e far produrre la parte vegetativa giusto in quei punti che ci possa servire per produrre anche l'anno prossimo e prima di chiudere vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale youtube Baoletis Farm iscrivetevi e attivate la campanellina mi raccomando molto importante spero che il video vi sia piaciuto e ciao alla prossima iscriviti al nostro canale